Una serie audiovisiva di tre puntate creata ad hoc per la Regione Puglia e per il sistema dei poli bibliomuseali, allo scopo di celebrare Dante Alighieri nell'anno dantesco e Nicola Zingarelli, in occasione del centenario della pubblicazione del primo vocabolario e promuovere il territorio pugliese. Con queste premesse nasce l'idea di Dante in Puglia, un format di grande impatto che narra in chiave emozionale gli ingredienti base di uno dei classici più importanti mai scritti nella storia della letteratura e rivisitati in chiave creativa. Col Gargano che si trasforma nell'inferno, Badi batte brindisi nel purgatorio e il salento nel paradiso. È una trilogia, Dante in Puglia è una trilogia di video di circa un'ora ciascuno, in cui tutta la Puglia diventa a suo modo dantesca, quindi ad esempio la foresta umbra ricorda la selva oscura, le saline di Margherita di Savoia e il bianco saranno associate al paradiso, lo crotondo per via del suo cono tagliato al purgatorio. Brindisi aprirà e chiuderà la puntata del purgatorio appunto come terra di mezzo, o ancora Papa Celestino V fu arrestato a Vieste, ma se quel Papa non fosse stato arrestato a Vieste, la Divina Commedia probabilmente non sarebbe mai esistita, perché lui non sarebbe mai andato in esilio, o quantomeno non sarebbe l'opera che oggi conosciamo. Quindi Dante in Puglia vuole mettere insieme promozione del territorio e celebrazione di due grandi menti a cui dobbiamo, molte delle parole che oggi usiamo. Un importante progetto di promozione del territorio e che ha potuto contare su numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e della scienza, come Luciano Canfora, Manila Nazaro, Massimo Brei, Vladimir Lussuri a Sergio Rubini, Giancarlo Giannini e tanti altri.